Ciao a tutti amici e benvenuti e bentornati in Life is Strange 2 Come al solito io sono Ambrus Cipedale Benvenuto in questo nuovissimo video Amici continuiamo subito la nostra avventura senza perdere tempo Abbiamo visto come dopo il casino che è successo alla serra Quella della marijuana contro quel cavolo di cosi Piano schifosissimo Ci siamo svegliati dopo un mese in ospedale Con un occhio praticamente andato a farsi friggere Purtroppo almeno così sembra Ma ora siamo nella stanza d'ospedale E l'idea probabilmente è quella di fugarcela Andremo a vedere Detto questo però vi ricordo di supportare questa serie Con un mi piace importantissimo Commentate, condividete Vi ricordo che esiste la pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram Tutti i link in descrizione e compesa la playlist di questo fantastico gioco Detto questo vediamoci in game E prima di tutto Via la can Oh è la can se ne va e noi continuiamo La dove l'avevamo lasciato Eravamo nella stanza dopo che quell'infermiere Dottore Cioè Insomma Vabbè avete capito Eravamo qua sostanzialmente C'è una penna Cosa ci facciamo? Raccogliamo la penna Non so cosa ci servirà Ma la raccogliamo Andiamo a vedere cosa c'è in giro C'è Qua Vabbè Il biglietto da visita Ho scritto chiamami quando vuoi A qualsiasi ora se vuoi parlare Bra 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 Ok vabbè C'è certo che lo faremo Pallina ribalzante Non riesco ad afferrare niente Ok questo ce l'aveva già detto Quindi Il problema è Giugamano possiamo fare qualcosa Controlla C'è qualcosa? Ha lasciato qualcosa? Ma È il nostro diario Fantastico Almeno quello l'abbiamo recu... Beh direi di prenderlo Cosa fai? Perché lo appoggia? Prendiamolo Prendiamo l'album Da disegno Il nostro diario Barra album da disegno Barra tutte le cose che volete Ma insomma è quello Un po' Cos'è? No speriamo Speriamo che Daniel sia in salvo Appunto dove si sarà nascosto? Questa è una bella domanda Dieci anni ma E soprattutto con degli strapoteri Secondo me vuole andare da sua madre Questa è l'idea Perché vi ricordate che lui Sean voleva andare dai... No non è andato a Claire e Stephen Secondo me è andato a sua madre Sean voleva andare da... In Messico Lui invece Dalla madre Il piccolo Daniel Voleva tornare dalla madre Quindi È lì Che secondo me è andato Credo Secondo E questo cos'è? Super lupo Attenzione E John Significa che Daniel Ah attenzione Daniel è da quarte parte con Jacob Sì vorrei leggere Sì va bene Sean Fammi leggere Ok Allora vabbè ho bevuto qualche birra Daniel sta dormendo Come ogni sera Vuole allenarsi di più Ma non abbiamo tempo E poi Dobbiamo nasconderci dagli altri Non è facile Questo era scritto Ovviamente tempo prima Ma forse Credo La scrittura quella blu Che vedete sotto Scritta ovviamente male C'è scritto Sean Ho preso in prestito Una coperta E un paio di cose Dalla tua tetta Te le ridò Appena vieni A riprenderti il tuo fumetto Di super lupo È qui che ti aspetta Jake Jake Quindi Jake È assieme a Daniel Vedete Una scrittura diversa Da quella Vedete quella impostata Quella Graficamente bella Di Di Sean Questa è proprio Brutta Qua c'è Un disegno Guardate Guardate il disegno qua 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 è la 74 Leggiamo Magari troviamo altro 23 febbraio Agente 420 Da mio No talk Cassidy la selvaggia Contro Anna La saggia E per ora qua Non c'è niente Vedete i disegni Fatti Guardate qua Cassidy Cassidy Io Un coso grosso come una casa a due piani Akireniel Mi fa paura Guardate Contro tutta sta roba Akireniel Poi qua intorno al fuoco Ricordiamo i nostri personaggi Qua Vediamo un po' cosa c'è scritto Serata tema Tagliatili bene Abbiamo condiviso i nostri ricordi peggiori Ci siamo tutti sentiti Delle merde Che mondo meraviglioso Sono andato a letto presto con Daniel Come al solito Però vorrei essere rimasto insieme agli altri Bah E poi qua abbiamo 24 febbraio 2017 Porca putt Sono un lupo di poche parolacce Daniel ha fatto di nuovo casino Devo risolvere questa storia Sono stanco di scappare Qua Bella questa storia Tra i due lupacchiotti Tra virgolette E Andiamo a vedere però Se ci sono scritte altre cose A questo punto Magari indietro Devo solo trovare la pagina Perché lui scrive in effetti qua Dei veri Viene a riprendere Proviamo a trovare la pagina E' One Point E' One Point E vada Andiamo a vedere Siamo arrivati Sono arrivati dei nuovi ragazzi Direttamente dall'Europa Andres e Ingrid O Ingrid forse Sono carini Mi fanno venire voglia di viaggiare per il mondo Un giorno magari Ho parlato Eccolo qua Molto con Jacob Jake E' un ragazzino E' cresciuto in una specie di comunità religiosa A Even Point In Nevada Mi sembra tranquillo Finalmente libero E vi ricorderete questo Jacob Questo Jake Come viene chiamato Che era quello che a me non piaceva Bene Ok adesso sappiamo che probabilmente in questa comunità C'è La notte Lui vuole scappare Questa notte Bella notte qua Ok Vuole filarsela dentro Non fare rumore Perché dovrei guardare sotto un letto C'è niente Volevamo scappare da sotto il letto Andiamo a vedere qua Qua è il parcheggio Sembra tutto molto tranquillo C'è una finestra Andiamo a vedere Ci sono delle lenzuola pulite Ah Vuole Fare uno Sean finto nel letto Cioè per Se entra qualcuno Lo vede che sta dormendo Se l'ha messa in tasca Quali tasca Non si sa Però va bene Lui vorrebbe fare uno Sean finto C'è una finestra Andiamo a vedere C'è una tenda Ok Possiamo tirarla Molto bene Andiamo a vedere però La finestra Esaminiamo Questa finestra Che dà sul corridoio C'è la guardia Qua dietro Sto dormendo Devi delle medicine Vuole ingannarlo Ok Qua c'è la stanza Il personale Ok Bene E qua c'è la stanza Di ristrutturazione E potrebbe essere Il luogo Dove uscire Ok Allora Andiamo a vedere bene La situazione In giro qua C'è anche un piano Di evacuazione Allora praticamente Questa è la nostra stanza Qua abbiamo visto La zona dove riparavano Qua l'altra A parte La guardia E' qua Quindi vedete che qua Dice di uscire Andare a destra E prendere le scale E andare Via Vedete anche qua Comunque qua c'è scritto Ad esempio Ospedale Piano di evacuazione Emergente Voi siete qui Via di uscito Uscita emergenza Quadro elettrico Estintore In caso di incendio Evacuare immediatamente L'edificio tramite Le uscite di emergenza Che sono qua Oppure in fondo al corridoio Da questa parte Non usare gli ascensori Seguire le procedure di evacuazione Procederà al punto di raccolta Potremmo azionare forse qualcosa Non si sa Questo è il bagno Ola E' uno specchio Possiamo controllare l'occhio C'è una maniglia di sostegno Vuole romperla Montarla Questa non è fissata bene Molto bene E allora Qua nell'inventario C'è un bel Fuggi dall'ospedale Poi da queste parti qua Abbiamo ovviamente Il diario Che ce lo siamo letti Molto bene Qua ci sono addirittura Le altre cose Tipo qua Sono stato in coma per settimane Sono cieco e fottuto Sotto la custodia della pulizia Presto finirò un gattabio Gli ospedali Mi mandano fuori di testa Non ne posso più Dove è Daniel? Ho paura Vedete come è cambiato il disegno Da qua a qua Guardate Si vede chiaramente Poi Ho provato a disegnare Ma a passare il tempo Questa stanza è una gabbia Mi faccio schifo Non ho più il senso La profondità Non ho ispirazione Non ho nulla Se mi concentro Mi creano assicurata Sto impazzendo qui dentro Mi sono svegliato Piangendo Anche qua ovviamente Disegni fatti male Poi qua Agente segreto speciale Flore Sta cercando di legare con me E per fregarmi Mi crede per davvero Sono fottutissimo Gli sbirri Non sono ancora riuscito A trovare Daniel Dopo l'esplosione L'avevamo visto Qua c'è Un buon compleanno Daniel Ovunque tu sia E nano Certo Abbiamo Claire e Steph Mi hanno scritto Una lettera molto carina Mi sento così solo Che l'ho letta due volte È strano Ma mi manca molto È bello avere notizie Da Captain Spirit Sono felici di sapere Che sta bene Il mio ritratto di Joy Non è così male Meno male che c'è lui Insomma Rispetto agli altri Così è Captain Spirit Qua abbiamo Un altro Cioè ho fatto un casino Con Daniel Ho lasciato che Finn Diventasse suo fratello Poi qua Flores ha provato A incastrarmi di nuovo Non l'abbiasimo Per averci provato E poi qua L'ultimo disegno Che abbiamo fatto Qua c'è addirittura Una penna Che è Credo un collezionabile Da questa parte qua Abbiamo la lettera Di Cassidy Che avevamo Letto tranquillamente Quindi direi Di non leggerla E basta Perché qua c'è la lettera Di Chris Che l'abbiamo letta Eccetera Eccetera Quindi direi Di strappare da qua Se riusciamo Se riesce Proviamo Vai 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 Oh la Grandissimo Non è successo niente Bene Allora Ah ok Però Va bene Chi se ne frega Che sveglia Controlliamo l'occhio Che è un'azione Però abbiamo recuperato L'enzuola E un Uno di quei Così lì Per tenere su il Porto asciugamano Mi verrà il nome Ah Ah Che male Occhio ho messo malissimo Molto bene Dunque Abbiamo Abbiamo ancora La finestra Possiamo aprire E più di così Non si apre Serve un supereroe Vediamo un po' Per l'accettazione Molto bene Allora Se noi riusciamo La destra Penso che usciremo Da qua Credo Ah ecco Delle impalcature Oh Che è una bella idea Entriamo in una stanza Di strutturazione E scendiamo dall'impalcatura E Forse è meglio E il problema adesso È Cosa facciamo Visto che qua Non possiamo fare Possiamo rompere la sicura Tirare la tenda Oppure chiedere Alla guardia Un'aspirina Proviamo Proviamo a chiedere La medicina Tattica più Normale Ah proprio così Peccato Gli avrei tirato Eh appunto Tirato in testa Al portacoso Sì Infatti Allora qua Non abbiamo Nient'altro Quindi Niente Vediamo un po' Da questa parte qua A questo punto Direi Che possiamo Tirare la tenda Ok Ok E a questo punto Da qua Possiamo Rompere la sicura Ci proviamo Proviamo a romperla Sicura Facendo forza Usandola come leva Va Magari ce la facciamo Sì Sì Qualcosa è successo L'abbiamo fatta Qualcuno No Non sembra Molto bene Ma ora Possiamo Uscire da qua Vai Usciamo Andiamo Verso le impalcature Entriamo Cioè non usciamo Io direi di entrare Recuperiamo la nostra roba E ce ne andiamo Ah Continua Proviamo a tornare indietro Un attimo Perché voglio vedere se Abbiamo un'altra opzione Perché questa È pericolosa No Pericolosa Soprattutto lui non ha le scarpe Poi sappiamo che non vede bene Possibile che sia l'unica Soluzione Cioè non c'è un'altra soluzione Beh vedete io volevo andare lì E poi andare Però se lui va di qua siamo fottuti E non recuperiamo forse la nostra roba Qua c'è il letto C'è un campanello Possiamo usarlo? Proviamo a chiamarlo Vediamo Lui dovrebbe entrare Possiamo creare un corpo finto Però adesso arriverà lui Magino Perché l'abbiamo Chiamato Magino Forse no Creiamo un corpo finto Intanto Con le lenzuola Così ci alleggeriamo un po' il peso Però se adesso arriva Un corpo finto Eh Va bene Va bene mica tanto Vabbè ok Questo può essere Che sia il modo per Uscire Da qua Cioè Con la finestra Io ci provo Aggredisci la guardia Ah ok Ho appena chiamato Joy Allora a questo punto Aspettiamolo un attimo Sta arrivando Puoi entrare Ah se ne va così Adesso vedrà La finestra aperta Cioè E non solo Anche di fuga Guarda la finestra È aperta So dove è Daniel Mi fa male la testa So dove è Daniel Vediamo se funziona L'idea E coinvolgerlo Non sembra che ci voglia aiutare Torno innocente Eh in effetti Scusa Direi scusa E in effetti Potrebbero beccarlo Ero una idea Che mi era già venuta Mentre glielo chiedero Ero un'idea Ero un'idea Ah ok Eh va bene Lascia stare attacca Joy Lasciamo stare non attacchiamo Joy Perché Joy è una persona Buona Attaccarlo non avrebbe senso Quindi secondo me L'unica cosa da fare Essendo che qua È sicuro tornato Il poliziotto Infatti l'unica cosa da fare A questo punto è uscire dalla finestra e sperare che non succeda Un casino Quindi ritorniamo all'idea originale Eh sì Avete visto che avevamo delle scelte Il fatto di Insomma aggredire il povero Joy Ti piaceva assolutissimamente Io spero che vadi alla sua destra Verso le impalcature Però non abbiamo credo scelta Sembra che vada a destra Sì Ok molto bene Vabbè almeno la strada è giusta Perché l'idea potrebbe essere Arrivare fino all'impalcatura Piano pianino Entrare Magari la guardia sta dormendo E distratta Entriamo di là Ci Ci Fottiamo le nostre cose Poi rientriamo qua E scappiamo Vabbè essere un'ottima soluzione Oppure usciamo dalla porta Oh Calmo 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 Dai che non manca tanto Ormai non c'è nessuno che ci guarda Sarebbe E' la fine Pensate se Arriva qualcuno e dice Eh che cosa ci va Quello è soffro Casino Lasciamo stare Dall'impalcatura Fuggì Ok molto bene Fuggì io volevo entrare sinceramente Vediamo Eccola lì Vedete dove c'è la fine Credo che siano lì i lavori Immagino E in effetti C'è pure la finestra aperta Sì Perfetto Dobbiamo recuperare la nostra roba Importantissimo Cosa Ultra importante Oh sta dormendo la guardia Come Previsto E noi siamo nella porta Con scritto warning Eccola qua Piano Da di qua Bene Bravo Sean Sì beh Sbatti la porta Per ora tutto secondo i piani Non sta succedendo niente di che Guardia Dormi pure Tranquilla Non ti preoccupare per me Eccolo lì Lo fai Rubi le pillole Un po' di medicine E beh è giusto In effetti è giusto Ma molto un sopravvissuto Tipo Quello dei giochi in cui porto anch'io No Un po' Un po' Survival zombie Lui vestito così Ho detto Correre Vai piano Che Già ci vedi poco Vai molto piano Ci vedi veramente poco nulla Ah quello è Finn Fin maledetto Che ti sei fatto beccare Sveglia Svegliamolo Volevo svegliarlo Perché Fuggire così Mi so se è strafatto ancora Non credo Non posso dirtelo No non glielo diciamo perché Se lo interrogano No non è che non è questione di fiducia Cioè un po' si Come va Mi ha discorso Lui sognava di bere cocktail E non fare nulla tutto il giorno È caldo Non ti sto incolpando Non ti sto incolpando Tu sei il ragazzo Sean I'm really gonna miss you Much love And respect Always I gotta go now Take care of him You're gonna find him Sean I trust you So you should trust yourself too che grande forza d'animo di sean veramente ora cosa vuole rubare una macchina certo si deve allontanare il prima possibile è proprio a velocità della luce e fare più miglia possibili perché polizia comunque se fugge lo cercherà tantissimo se la guardia entra vede quel finto corpo che abbiamo messo che abbiamo fatto la macchina aperta fintissimo corpo che abbiamo messo lì per far più brutto le chiavi non ci sono proviamo a vedere tipico degli americani la mettono sotto la accende così proprio così alla grande piano piano non dobbiamo testare assolutissimamente la cintura sean di solito sotto le alette parasole mettono le chiavi cioè almeno nei film piano piano sean non serve che corri così vai piano ci andiamo via dal sacred hope hospital fantastico fantastico amici siamo riusciti a scappare in qualche modo piano sean in macchina guidando lo zaino con le nostre cose una cartina dobbiamo andare in nevada quindi da tutt'altra parte e che rispetto alla nostra direzione dato che guidare con quell'occhio lì insomma è proprio il massimo della vita ma vorrei capire sean chi gli ha insegnato a ah beh no beh in realtà il padre gli ha insegnato probabilmente essendo il padre meccanico gli aveva insegnato come accendere le macchine senza chiave e quelle altre cose ecco la cosa là un poster una coperta vediamo ah guardate mamma mia che sceneggiatura che sceneggiatura amici che sceneggiatura proprio top top la sceneggiatura che fotografie che sceneggiatura guardate comunque ho guidato tutta notte perché ormai è l'alba non so se la polizia si è già accorta oppure no life is strange 2 pensate praticamente due episodi per arrivare al titolo non è male episodio 4 fate poi nevada non è proprio da tutt'altra parte ma rispetto a dove dovevamo andare cioè new messico poi in messico non è proprio a due passi comunque famoso il deserto del nevada infatti vedete come si desertifica proprio la situazione queste lunghe strade che ha due corsie eccolo qua welcome to nevada abbiamo cambiato stato cosa fa abbandonare la macchina no continuo questo journey questo viaggio verso verso il piccolo Daniel verso Jacob in realtà e il piccolo Daniel cioè insomma un lungo lungo viaggio ma amici per questa puntata è tutto vi voglio ricordare di lasciare un bel mi piace un commento una condivisione andremo avanti da qua per cui mi raccomando supportate questa serie da Amor c'è tutto ci vediamo al prossimo fututo video ciao a tutti ciao a tutti